Un incendio sviluppatosi ieri sera in un deposito di rifiuti della FG Riciclaggi a Cairo Montenotte ha tenuto impegnate squadre di vigili del fuoco di Cairo, Savona, Albenga e Genova fino a questa mattina, mobilitati anche volontari della protezione civile, polizia municipale e carabinieri. In fiamme anche plastiche e pneumatici che hanno creato una preoccupante nube tossica, tanto che i sindaci di Cairo e Carcare hanno disposto alla chiusura delle scuole e invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre delle abitazioni. Oggi l'ARPA ha avviato una serie di analisi e accertamenti per verificare l'inquinamento atmosferico provocato dal rogo. Sulle cause che hanno scatenato il devastante incendio, l'ipotesi più probabile appare quella dell'atto doloso. La FG Riciclaggi SRL è nata nel 1990 per occuparsi del recupero e dello smaltimento di rifiuti industriali e ha poi ampliato la sua attività anche nel settore della raccolta differenziata. Io lo ricordo anche personalmente perché Natta era il capolista abitualmente del Partito comunista nella nostra regione anche prima di diventare segretario del Partito e ricordo una assolutamente eccezionale capacità oratoria che riusciva, nonostante la sua cultura alta, Natta era un latinista, a parlare direttamente agli strati popolari della società. questa capacità di raggiungere con una capacità di comunicazione, di trasmettere un pensiero profondo senza mai banalizzare il ragionamento credo sia una caratteristica di Natta che oggi sarebbe davvero prezioso. Un ricordo di Alessandro Natta innanzitutto? Io ho un ricordo personale che tengo molto caro nel mio cuore. Quando ero assessore in provincia, diciamo giovane assessore in provincia, ho avuto il piacere di accompagnare Alessandro Natta a presentare il suo libro, il libro L'altra Resistenza che era appena uscito e che avevamo presentato in questa sala. Devo dire che avevo prima visto da lontano Natta come segretario, non lo avevo mai incontrato direttamente in un momento più privato e mi ha colpito in modo fortissimo la capacità di entrare in relazione con chiunque, quella cosa che solo un grande intellettuale, una grande persona riesce a fare con il massimo di umiltà e di capacità di mettersi in rapporto. Ho ascoltato la sua lezione su quel libro, sulla sua esperienza di militare internato nei campi nazisti e ho pensato a come quell'esperienza della Resistenza lo avesse formato e forgiato per diventare poi il grande dirigente politico che è stato. È cambiato tanto dai tempi di Natta, si è parlato anche di crisi dell'ideologia, lei cosa ne pensa? Io di Natta ho apprezzato il grande rigore morale, l'approfondimento culturale, l'intellettuale che è stato, la capacità oratoria che veniva da un'analisi lucida dei problemi dove però non mancava la passione. Credo che tutte queste doti oggi siano necessarie alla politica. Massalo, questa commemorazione, questa giornata doveva essere diciamo abbastanza ristretta, poi forse è un po' tra virgolette sfuggita di mano, ha preso un peso diverso da quello che immaginavate, mi pare di capire. Sì, è nata diciamo così come preludio a una serie di manifestazioni che noi faremo in primavera e quindi era una cosa tra i conoscenti storici di Sandro. Poi quando è stata data la notizia sul giornale, devo dire la verità, me l'aspettavo in qualche modo ma ha assunto un rilievo di carattere non solo regionale come noi pensavamo ma addirittura di carattere nazionale con la presenza di due ministri, tre onorevoli. Insomma è stata una grande cosa anche perché dimostra l'affetto che questo grande uomo, questo grande imperiese ha avuto a livello nazionale, a livello italiano. Quindi le celebrazioni per ricordare nata sono solo all'inizio, non finiscono? Questo era proprio il preludio, diciamo, che il 7 di gennaio è la sua data di nascita e quindi abbiamo voluto ricordarlo in questo momento. Centenario, fra l'altro. Centenario della nascita. Dopodiché in primavera, inizio ottunno, faremo tre iniziative. Una, diciamo, il Natta collegato anche con Felice Cascione e metteremo a confronto le due esperienze di resistenza, l'una sui Monti Liguri di Felice Cascione e l'altra all'estero, l'altra resistenza come dei militari italiani all'estero che ha vissuto Natta. La seconda iniziativa sarà invece più squisitamente, diciamo, politica, nel senso che vorremmo rievocare e approfondire il pensiero e l'azione di Sandro Natta quale segretario del Partito Comunico Italiano. Mi dicono che la normale di Pisa, di cui Natta è stato un alunno, vuole anche, diciamo così, fare una giornata di studio sull'altra grande caratteristica di questo grande imperiese, che era l'intellettuale, un latinista famoso, diciamo, direi, anche nelle aule parlamentari. E quindi queste saranno le prime tre iniziative. e poi vediamo un pochettino se allargare ancora il campo. Perché vorremmo che questo grande intellettuale, grande politico, e io aggiungo, grande imperiese, vorremmo che fosse ricordato come è giusto che lo sia. Oggi nell'unità di crisi trasparente, con accesso anche alla stampa, abbiamo dato alcuni dati nazionali. La Liguria si attesta come tra le regioni più colpite, 15 casi ogni mille, siamo al limite della pandemia, ed è per questo che nei giorni scorsi abbiamo avuto questi accessi, soprattutto di bianchi e di codici verdi, nei nostri pronto soccorso. Mentre i codici rossi e gialli sono stazionari. Il fatto che oggi i numeri siano più bassi rispetto all'accesso non è un dato che ci deve tranquillizzare, in quanto dopo il virus dell'influenza c'è il rischio della polmonite. E quindi nei prossimi giorni siamo attrezzati per potenziare. In qualche modo è una battaglia che stiamo ingaggiando contro il virus dell'influenza di quest'anno, che come è noto sta colpendo duramente anche altri stati, non soltanto l'Italia, la Francia e il Regno Unito. Ci stiamo attrezzando, abbiamo un'ottima collaborazione con i medici del territorio, che rientrati in servizio hanno visitato migliaia di pazienti, hanno dato anche la disponibilità con dei loro medici presso gli ospedali dell'area metropolitana. E quindi devo dire che Regione Liguria sta affrontando un evento veramente straordinario, con grande capacità. Ma siamo già al limite della pandemia, quindi i numeri li abbiamo già testati, abbiamo ovviamente potenziato il sistema delle dimissioni, protette, andando anche a assumerci il costo sociale dei collocamenti nelle residenze sanitarie. Abbiamo aumentato i posti di unità di crisi nei vari ospedali, abbiamo potenziato gli ambulatori presso il pronto soccorso. Il servizio di continuità assistenziale, che è sempre medicina del territorio, ha risposto a veramente un numero importante di chiamate da parte dei cittadini, facendo anche visite domiciliari. Quindi, devo dire, un sistema che ha comunque assorbito questo colpo forte in anticipo rispetto anche all'anticipazione dell'anno scorso. Le misure sono quelle ovviamente anche di, purtroppo, posticipare alcuni interventi programmati, quelli non gravi, nei vari ospedali, proprio per tenere i posti letto, in modo tale da poter non intasare il pronto soccorso, ma consentire una retuzione delle persone. L'epifania tutte le feste porta via. Così l'angolo torna quotidiano per cercare di mettere a fuoco fatti e faterelli che costellano il nostro bel paese. Notizie che a volte fanno sorridere, e spesso però fanno piangere. L'anno nuovo non sappiamo ancora cosa ci abbia portato di veramente nuovo. La tensione a livello mondiale, legata alle bizze del Presidente degli Stati Uniti piuttosto che a quello della Corea del Nord, ci tengono con l'infiato sospeso. A volte le notizie cadono sotto i nostri occhi per far sì che il popolo non si accorga che le tariffe di gas, energie elettriche e autostrade sono lievitate a dismisura. Ci chiediamo che differenza ci sia tra l'inizio del 2017 e quella appena nato. La politica non ci fa ben sperare. Le lotte interne per il potere di questo o di quell'altro partito non possono lasciarci indifferente. Pensano tutti alle poltrone e per i programmi sparano raffiche di stupidaggini, facendoci magari credere che le casse dello Stato sono piene di soldi, che tutti pagano il dovuto tributo in tasse e che l'uscita dal tunnel della crisi è vicino. Beati i semplici, quelli che ci credono, quelli che magari si accontentano di un bicchier di vino e di una bella cantata. Da sempre ci sono quelli che vedono sempre tutto azzurro, un po' come il prete di Borgomaro che in chiesa ha salutato gli 80 anni di Adriano Celentano facendo cantare ai fedeli il celebre motivo scritto da Paolo Conte e portato al successo proprio dal molleggiato. Azzurro. Il pomeriggio è troppo azzurro. Beh, forse sarebbe meglio fosse un po' più rosio e non solo per i credenti.